Non è vero ma ci credo, un argomento decisamente delicato, anche è sempre attuale, dove però vi siete anche divertiti trattando un tema davvero importante. Sì, lo scopo è sicuramente quello di far ridere, anche nella intenzione dell'autore di Peppino De Filippo. È chiaro che poi la storia del mondo dello spettacolo, del mondo del lavoro, la storia della società a volte ci ha mostrato situazioni, momenti, ma più che tragici, che hanno rovinato in maniera definitiva personaggi, cantanti, attori, o ripeto anche della società, di qualunque settore, per la stupidità umana, per queste cose qua. Lo diciamo poi alla fine a bocce ferme, a motori spenti, quando abbiamo finito di fare i ringraziamenti per il plauso del pubblico, io non perdo occasione di dirlo, che l'argomento è delicatissimo, ma neanche per scherzo bisogna dirlo, perché poi c'è qualche cretino che ci punta l'orecchio su questa cosa, magari ne parla, ne riparla, lo dice, delicatissimo certo. Comunque la capacità anche di lavorare sul copione, di rendere questo lavoro molto siciliano in tanti aspetti e di cambiarla completamente anche nelle battute, soprattutto renderla anche molto divertente. Sì, Peppino non era certo un grandissimo autore, era un grandissimo autore, il più grande della famiglia di Filippo a mio modo di vedere, però certo nella scrittura, nella tramodurgia non era certamente Edoardo, e allora diciamo che è un peccato veniale, non è un peccato mortale, ecco, non ci sono i puristi che dicono, ah cosa hai fatto, su questo argomento si può fare la classica domanda, ma è ancora attuale, è scritto negli anni 40, 50, ecco, forse non era più tanto attuale, allora non l'abbiamo reso attuale con le esperienze, ahimè, a volte spiritose, a volte amare, che la storia dello spettacolo ci ha consegnati. Devo dire che la gente si comincia ad abituare anche ai lavori drammatici, in genere si dice ma io voglio soltanto ridere, al che ho detto ragazzi, non è una rassegna di cabaret, ci sono chiaramente commedie allegre, proprio di piena irarietà, però effettivamente il grande teatro con Claudio Casaddio, con la compagnia dei pazzi e con Spazio Naselli che ha fatto Bufalino Centro, sono state veramente delle serate che chi è venuto a vederlo, ecco, è stata gli abbonati, ha detto effettivamente interessante, molto bello, sono stati molto bravi, cioè si comincia ad apprezzare, poi c'è il passaparola e quindi per l'anno successivo ci sarà sicuramente maggiore partecipazione anche a questo tipo di spettacoli. Ecco, a proposito di questo, ci state già lavorando? No, c'è già pronta questa sera, abbiamo dato il volantino con la prossima rassegna, abbiamo Pino Insegno, abbiamo attori di un certo livello, Michele Lupano, abbiamo veramente una stagione di alto livello.